prosegue il nostro cammino in giallo festival e con noi abbiamo nicola scherz abbiamo modo di dire perché naturalmente da di gomito proviamoci come va ricola tutto bene tutto bene stefano grazie non ci lamentiamo nonostante il periodo nonostante la media del periodo direbbe un previsore osmer un previsore meteorologico senti tu hai ripartito con quel ito risumo che ho letto due volte perché mi era sfuggito volevo approfondire e un horror meteo c'è una cosa splendida a mio parere hai fatto veramente un grandissimo libro sono passati un po di anni ma un grandissimo libro perché sei riuscito a trovare una sfaccettatura nel nel noir diciamo che ancora non era stata così tanto esplorata beh sì è stata una scelta spontanea particolare nel senso che il pretesto letterario è il sole che si spegne all'improvviso in una splendida mattinata di sole primaverile per cui possiamo immaginare oltre alla costernazione quello che saranno tutti gli sviluppi del caso quindi buio assoluto e un freddo che la temperatura che precipita e presto tutte le persone della terra cercare luce calore nei modi più probabili perché dobbiamo considerare che il mondo va in blackout completo di elettricità e quindi cominciano a bruciare di tutto e di più pur di avere luce calore questo come pretesto questa oscurità che poi porta in evidenza la fragilità di noi uomini dove abbiamo abbiamo dei capisaldi dove pensiamo che non accada mai nulla invece ci si può coinvolgere certo anche per quello dico pretesto perché in realtà era solamente un buon motivo per raccontare per l'appunto la fragilità dell'uomo di fronte a una società che si autodisgrega di fronte a un evento eccezionale per fortuna questo periodo difficile riusciamo comunque a a navigare in buone acque certamente più di una persona mi ha fatto notare infatti che torizubo parla di un altro argomento ma in realtà durante questo periodo assolutamente sì sì molto attuale perché sono quelle cose che non usciamo a dargli un non usciamo a prevedere non usciamo in qualche modo sconfisse non usciamo a fronteggiare cioè quindi sono imprevedibili e poco governabili e siamo abituati a sentirci padrone del mondo infatti mi fa ridere anche adesso prima del lockdown del problema del coronavirus fino all'anno precedente a farla da padrone erano i cambiamenti climatici e quando sentivo gli slogans dobbiamo salvare la terra la terra la vita va avanti tranquillamente siamo noi che dobbiamo salvarci cioè bisogna uscire fuori dall'approccio antropocentrico non siamo al centro della del mondo dell'universo e della vita ma ne facciamo parte e dobbiamo barcaminarci anche noi per tirare avanti la carretta quindi non ascoltiamo troppo greta nel senso buono del concetto se si fa altro che lanciare un allarme però poi alla fine un allarme che viene a dire era scontato cioè non neanche da da non 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 pensarci insomma quindi sì sì certo purtroppo adesso questo argomento è stato un po' oscurato dal problema del coronavirus ma nel contempo ha dato una virata ancora più significativa nei confronti della di un processo di sviluppo più sostenibile anche perché durante il lockdown abbiamo avuto proprio la controprova se mai ce ne fosse stato bisogno di cosa la natura l'ambiente si è riappropriato giustamente grazie all'assenza dell'uomo cioè nel senso grazie almeno consumismo sporadico o seriale che l'uomo perpetua ogni giorno sì è stato il primo periodo della storia recente in cui si è arrestato comunque una brusca frenata dell'incremento della CO2 in atmosfera perché comunque i trasporti si erano bloccati e quindi anche l'industria aveva ricevuto una bella bastonata di arresto con quelle sfumature noir, gialle, rosa, nere non si sanno come rimane il dubbio dice ma l'uomo questa incidenza nel non fare, nel subire, nell'interagire eccetera quanto è colpevole? questo è un dubbio che rimane insomma perché siamo accorti che sì la natura si è riappropriata ma l'uomo a un certo punto gli sono venuti a mancare dei riferimenti, delle solidità che sono scomparsi insomma in qualche modo sì sì certo per cui infatti ricollegandomi a questo argomento la responsabilità certamente parziale ce l'abbiamo nessuno è in grado di stabilirlo quantificare la responsabilità personale dell'umanità però una cosa è certa ecco per dare sempre un po' come il report che alla fine dava sempre la buona notizia dopo una marea di terribili è che alla fine tutto è ancora possibile è vero il processo del cambiamento climatico ormai è praticamente inarrestabile anche se adesso smettessimo di produrre CO2 completamente l'inerzia del sistema è tale che la temperatura continuerebbe a salire per i prossimi 200 anni però nello stesso tempo si può interrompere la corrente del golfo per cui rischiamo magari addirittura una mini glaciazione in Europa o il sole stesso diminuisce l'appunto ritornando ai Torizumo al romanzo diminuisce la sua attività solare per cui magari grazie per fortuna che abbiamo buttato fuori tutta questa CO2 cioè le variabili sono talmente tante che si può anche sperare che per casualità per puro culo le cose possono andare meglio ecco per cui a questo punto possiamo puntare sul fattore C appunto ecco poi andremo a sperare anche il fatto di quanto incide l'inquinamento sul fattore che l'uomo possa subire gli effetti del covid eccetera quindi è tutto un mondo complicato, complesso è estremamente complesso perché negli ultimi sei mesi è stata utilizzata una quantità per esempio di disinfettanti enormi quindi non solo per le mani ma anche per le hanno buttate sulle strade ovunque tutte queste cose poi finiscono nelle falde acquifere quindi non si sa mai, cioè si risolve un problema contingente del momento ma gli effetti collaterali sono difficilmente ponderabili ecco senti Torizumo è un libro tuttora attuale secondo me da rileggere che comunque secondo me ha dato una forma alla tua posizione di scrittore nel senso che ti ha presentato nella maniera corretta e giusta però tu hai proseguito poi scrivere altre cose potrei fare un riferimento visto che parliamo di Gialli di Luca Casca un ispettore di polizia che tu hai inserito nei tuoi racconti Giallo interiore dove si parla di un addirittura viene definito uno stile libero quindi hai creato un qualcosa di particolarmente personale che affascina sì è vero nel senso che bene o male non seguo un filone, un genere ogni volta cambio la scatola però quello che credo ormai sia riconoscibile è quello che è importante in un gruppo musicale ovvero il sound nel mio caso lo stile di scrittura o gli argomenti che vengono trattati bene o male hanno un filo conduttore nonostante le storie romanzate che metto su carta siano tra loro completamente diverse perché poi sono passate anche al romanzo di formazione surreale alla commedia nera dell'ultimo romanzo in tutti c'è una riflessione è un filo, mi dicono almeno ironico talvolta sarcastico beh l'ironia è una forma di intelligenza quindi è un'espressione di intelligenza quindi è molto importante come inizio non c'è male già in titolo ad esempio dà una definizione che è profonda e superficiale al tempo stesso cioè nel senso che dipende uno da che parte la osserva sì sì infatti come inizio non c'è male infatti l'ultimo romanzo è stato pubblicato dalla casa editrice tedesca Hochmann Publishing scusate la mia pronuncia ma io con le lingue spaniere non gliela faccio proprio faccio difficoltà ed è una commedia nera appunto molto particolare c'è questo giornalista freelance che non ha casa vive da solo non entra una donna in casa da sei mesi eppure comincia ad avere dei ritrovamenti di oggetti femminili un rossetto da una parte un tanga nel cassetto quello del suo ittivo e da lì quindi comincia a svilupparsi una storia che ha dei risvolti davvero molto particolari e sempre basati su riflessioni però mutuate e veicolate dall'ironia che è una cosa che permette di affrontare degli argomenti anche complessi in maniera più fluida in mezzo a tante storie in mezzo a questi tuoi libri anche un certo Bert che è una storia di sostanza stretto completamente al di fuori di quelli che erano i tuoi racconti precedenti o successivi sì sì infatti è stretto per appunto quello che avevo citato prima un romanzo di formazione surreale molto particolare che è stato molto apprezzato che si discosta moltissimo per esempio da quello che erano i racconti PET che è l'acronimo di PALP erotic trash che per l'ironia della sorte poi ho scoperto se non finite anche nell'edizione paoline perché i racconti PET non sapevo è un filone letterario di racconti su animali per una letteratura di bambini ecco per cui c'è stato anche questo aspetto diciamo questo equivoco simpatico certo nella letteratura in gialla si rischia a volte di creare un po' come succede nella musica quando chiedono una musica ma che tipo di musica fai hard rock rock heavy metal eccetera come dice il mio amico Lucio Mazzi c'è solo la musica che piace e la musica che non piace cioè è una cosa molto personale così nella letteratura giallistica un'espressione estremamente banale e sbagliata però si parla di noir di giallo si cerca sempre di trovare la classificazione dove prendere il libro e dove metterlo nella nostra libreria ideologica invece la buona letteratura è trasversale come la musica questo infatti ti do pienamente ragione è sia un vantaggio che uno svantaggio personale perché nell'editoria è importante trovare un filone una categoria un cassetto nel quale inserire il romanzo banalizzando nel mio caso questo rappresenta un problema proprio per questa trasversalità il giallo non è mai semplicemente il giallo il noir non è mai esattamente un noir il romanzo di fantascienza come Torizumo può essere considerato apparentemente fantascientifico per cui è una trasversalità che mette in difficoltà chi ha bisogno di categorizzare come è nella necessità umana il libro o qualsiasi altra ma quello che hai detto tu correttamente è alla fine è importante che piaccia o non piaccia magari anche con il buon vino non sono in grado di dire se odora di foglie di pomodoro o di buccia di banana tutto al più so dirti se mi piace o non mi piace c'è una classificazione importante sì perché se no dobbiamo suggerire alle librerie anche quelle non solo quelle indipendenti ma soprattutto quelle in catena di fare una corsia con varie ed eventuali perché se no ci sono veramente romanzi e libri che non si possono identificare ma alla fine sono quelli anche più curiosi e fra virgolette viene da dire più profondi perché non si formalizzano su un'identificazione specifica ma vanno ben oltre quindi possono davvero piacere un pubblico molto più ampio uomini e donne adulti e meno adulti insomma sicuramente per l'autore gli concede una maggiore libertà di espressione per quello anche per esempio non colloco mai quello che scrivo in una regione geografica una città precisa perché questo mi limiterebbe i miei spostamenti creativi così facendo posso metterci dentro quello che voglia e uno può riconoscere alla fine l'importante è che uno non riconosca almeno dal mio punto di vista la geografia esterna ma la geografia interiore quindi che abbia questa credo che questa sia la cosa migliore perché di voi autori dobbiamo sfruttare proprio la capacità intellettiva e di fantasia che puoi esprimere in quello che scrivete il cassetto adesso sei impegnato con la famiglia con la tua attività c'è qualcosa e questo cassetto racchiude qualcosa succederà qualcosa a breve beh certamente allora adesso diciamo che ho due idee nel cassetto una non so se rispolverarla perché infatti mi sono strapentito due anni fa ho cominciato a scrivere quindi in tempi presospetti una storia un'allegoria però la butterò giù lo stesso di una crociera si sa che le crociere tra l'altro sono super inquinante inquinano più di una città intera per le loro missioni dove c'è tutta questa gente allegra che va in giro a zonzo per il mondo in cui succede di tutto per esempio avevo ipotizzato avevo tutti gli appunti dove scoppia un'epidemia però si sa che non esiste un ospedale attrezzato in una crociera ci scappano un paio di morti ma si sa che c'è una camera mortuaria ma al massimo per uno o due posti quindi tutte quelle semi di crisi che effettivamente poi in maniera macabra purtroppo sono venute fuori per cui pensavo comunque di rispolverarla perché comunque era un'idea che mi era rimasta impressa ma che farà anche cambiamenti climatici sta crociera che andiamo a vedere con piacere le calotte glaciale che si scioglievano tutti che applaudivano scele di incoscienza collettiva pur da mantenere l'industria della distrazione di massa e poi ce n'è un'altra ancora in piedi e poi che voglio sviluppare che è tutt'altro è un titolo il titolo ve lo posso già dire che è a credine col punto di domanda che è la cosa particolare e poi questa magari è una versione inetica è una provocazione e poi probabilmente ecco uscirò fuori con una cosa che ho lasciato decantare da decenni che probabilmente dovrebbe speriamo uscire il prossimo anno un libro di poesie bene è proprio un panorama molto molto variegato in questo momento mancano gli incontri le presentazioni dei libri che sono quelle che non è l'occasione per vendere libri però è l'occasione per condividere e confrontarsi sono d'accordissimo con te purtroppo di occasione ce ne sono state poche ne ho fatte un paio ultimamente ed è vero quello alla fine personalmente almeno non la vedo come un'occasione di vendere il libro ma di condividere dei pensieri e di lasciare magari qualcosa in più o di diverso che non si trova nel libro magari che viene presentato un'occasione di spaziare e di confrontarsi e di condividere o anche di ricevere delle critiche su il tuo modo di vedere le cose ecco l'aspetto che aiuta a solidificarsi quindi sì 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 purtroppo questo virà mancare io sono più magari comunque un animale da presentazione al di fuori della libreria perché la libreria magari è un ambiente più formalizzato più canonizzato mentre non so la presentazione banalmente in osteria in piazza una volta l'ho fatta una bellissima che veniva organizzata dall'azienda dei trasporti di Gorizia veniva fatta in autobus bellissima una idea fantastica poi si finiva magari l'aspetto ludico mangereccio ed un gastronomo a qualche parte ma tutta la presentazione si svolgeva in autobus quindi queste idee sono molto belle una sagra del proprio libro insomma sì sì assolutamente ci vuole comunque l'aspetto anche assolutamente anche perché il libro è un momento di evasione un momento intimo tra l'altro io sono un fautore credo che nella stampa cioè non niente niente che vedere con gli ebook eccetera però il libro è personale te lo porti sei geloso del tuo libro quindi te lo porti in situazioni intime che uno non può neanche immaginare esatto sì sì per fortuna lo possiamo portare anche a caso in questo periodo ecco esatto speriamo che si possa condividere di nuovo questi incontri questi piacevolissimi incontri senti Nicola io ti ringrazio grazie di averci offerto la possibilità di dialogare con te e di parlare di quelle che sono le tue le tue storie perché sono veramente belle interessanti quindi invito i nostri amici ad approfondire in questo momento lo stiamo facendo virtualmente però da ogni situazione noi dobbiamo cogliere il lato positivo quindi accontentarsi è brutto non è non è una grande una grande motivazione però poter cogliere qualcosa di positivo anche negli aspetti negativi ogni tanto ci aiuta a sopravvivere assolutamente anche perché le condizioni ideali purtroppo nella vita non esistono e questo è anche forse un'opportunità ringrazio invece tantissimo Stefano ti ringrazio moltissimo invece a te per questa occasione speriamo di vederci presto fisicamente di nuovo scusate se vedo ogni tanto che la mia immagine traballa ma è positiva è ciò che dici che ci porta ok perfetto perché ho il computer sulle mie gambe ecco ciao ciao Stefano grazie grazie saluti a tutti grazie ciao 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 ciao